Deve far freddo a Londra oggi, il cappotto di Kate Middleton, in visita al rugby Portobello Trust, resta ben chiuso. La duchessa di Cambridge, al quinto mese della terza gravidanza, ha distribuito regali e incontrato i bambini e i ragazzi a cui il centro di North Kensington offre sostegno e aiuto. Kate W.S. Meghan, due borghesi a confronto si tratta di uno degli appuntamenti benefici prima di Natale, che rendono fitta la sua agenda. Le feste, poi, come da tradizione saranno a Sandringham, in compagnia del resto della famiglia reale. Quest'anno, pare, ci sarà anche Meghan Markle, neo-fidanzata ufficiale del principe Harry. Meghan Markle e l'addestramento militare per diventare principessa il 2018, poi, sarà un anno importante. Ad aprile Kate e William diventeranno di nuovo genitori. Dopo George, quattro anni, e Charlotte, due. Ma a fine gennaio intanto la duchessa di Cambridge e il marito sono attesi in Svezia e Norvegia. Il tour reale, con Kate ormai al settimo mese di gravidanza, durerà quattro giorni, dal 30 gennaio al 2 febbraio, come annunciato sul profilo Twitter di Kensington Palace. L'obiettivo è quello di rafforzare le relazioni con i paesi europei in vista della Brexit. L'ultimo viaggio ufficiale della coppia risale allo scorso luglio, quando i due hanno visitato la Germania e la Polonia insieme ai loro adorabili figli. Stavolta, i bambini dovrebbero invece rimanere a casa. Ma non è ancora detta l'ultima parola. Un oragano chiamato Harry il record della regina Elisabetta, intanto, resta lontano. L'attuale sovrana, 91 anni, ha visitato ben 120 paesi del mondo, nonostante non possegga un passaporto. E quasi sempre col marito Filippo al seguito. Solo in Italia, tra le sue mete preferite, c'è stata cinque volte, l'ultima nel 2014. E nei primi dodici mesi da regina, Elisabetta II ha viaggiato per oltre 40.000 miglia visitando dodici paesi durante il tour del Commonwealth durato ben sei mesi, dal novembre 1953 al maggio 1954. William e Kate hanno ancora tanto da imparare.